Allora, un ragazzo balbuziente entra in un bar e fa il barista Così, ma fa un caffè Il barista lo guarda e gli fa Come lo vuole, corretto E questo ragazzo si grazie Nel stesso momento un'altra persona entra nel bar e fa il barista Scusi che mi fa un caffè Il barista gli fa Sì, dica come lo vuole, corretto Sì, grazie Allora il ragazzo balbuziente, un po' risentito Risentito e non ha giusto ragione Gli fa Ma che messi Ma hai preso In giro Gli fa No, devo pericolo a quell'altro No, devo pericolo a quell'altro No, devo pericolo a quell'altro